Sì, credo che si siano fatti dei passi in avanti rispetto alla partita precedente dal punto di vista fisico, dal punto di vista d'attivo, anche nei tempi di giocata i ragazzi ci hanno messo impegno e voglia anche oggi cerchiamo di crescere giorno dopo giorno cercando di prepararci meglio al miglior modo possibile per la prima di Coppa Italia che tra dieci giorni Fronti via dopo un solo allenamento, subito di andare a titolare nel ruolo di terzino-terra Sì, anche perché mi serviva che dato l'impegno si allenasse quindi più minuti di gara faceva, era meglio per noi e per lui anche perché non ha fatto neanche un allenamento con noi mi serviva soprattutto dal punto di vista dell'allenamento Bene, nel primo tempo Dugandiu c'è l'autore di una bella tripletta Sì, si è mosso bene, si è battuto ha fatto quello che gli ho chiesto ha fatto una buona prova Nella ripresa avvenuto